Musica Questo è un conio per lei da parte di tutta la comunità di Sant'Orso e gliela consegno io indegnamente. Grazie Io ringrazio, ringrazio un tanto chi ha visto l'idea, non ne aspettavo, come direi io, sono il primo invece ad essere riconoscente alla mia comunità perché sono stati anni impegnativi ma assolutamente interessanti e entusiasmanti. E devo dire ringrazio di cuore soprattutto chi mi ha accompagnato, e cioè gli assessori, i consiglieri e anche il personale, soprattutto nelle figure delle forme radicali. Perché, lo dico sempre, io credo di aver vissuto anche di luce riflessa, perché se dei giudati ci sono stati, sono stati parzialmente merito mio, ma soprattutto merito di tutto uno staff, di tutto un gruppo, di tutto. Mi permetto anche di ringraziare i carabinieri vigili perché, devo dire, noi abbiamo con loro un rapporto di grande collaborazione e anche di grande sensibilità di conoscenza. Quindi grazie a questo punto, eh! Grazie a tutti!